Si ravviva la campagna elettorale per le comunali a Pineto a pochi giorni dalle elezioni. Andiamo a conoscere anche il pensiero, i programmi del candidato del Movimento 5 Stelle, Filippo da Fiume. Il nostro programma è proprio incentrato sullo scambio che abbiamo avuto in questi mesi, perché è un anno che stiamo lavorando sul nostro programma, che è un programma fattibile, non è un libro dei sogni, una lista della spesa, ma un programma concreto, con dei punti concreti per rilanciare una città che da troppi anni è immobile. Quali sono i punti fondamentali, principali del programma elettorale? Allora, innanzitutto la cura del territorio, perché Pineto soffre veramente di un male grave, che è quello del rischio idrogeologico, dell'erosione della costa nord, e sicuramente anche di una qualità delle acque del mare, che è il nostro pregio non propriamente eccezionale. Il secondo punto è rimettere a posto il bilancio del Comune, perché io personalmente mi occuperò di questo aspetto, diciamo io per lavoro, per mestiere, faccio il controllo di gestione, mi occupo di bilancio e di finanza. Credo che, come tutti i comuni in Italia, il Comune di Pineto abbia grandi problemi di sostenibilità del bilancio, per cui la prima cosa da fare è rimettere a posto il bilancio, metterlo in sicurezza, e attraverso una razionalizzazione della spesa trovare le risorse per fare quello di cui Pineto ha bisogno. Si è parlato tanto in questa campagna elettorale di sicurezza e di turismo a Pineto. Sicurezza, senz'altro, è un tema importante, ma non credo che per Pineto sia un tema fondamentale. Il turismo invece assolutamente sì, e noi abbiamo parecchie idee. Sicuramente Pineto non ha bisogno di aggredire nuovamente il territorio, ha bisogno di razionalizzare quello che ha. Uno sguardo alle colline stupende che abbiamo nella città di Pineto, che non vengono manutenute a livello di percorribilità delle strade bianche. Non c'è stato investimento nelle aree rurali, come detto, come promesso dalla passata amministrazione, nulla si è fatto su un turismo agrituristico, enogastronomico, dove invece io vedo grandissime possibilità, così come il recupero della Pineta storica, anche da un punto di vista del godimento serale, che invece in questo momento non avviene. E questo credo che siano dei punti importanti per rilanciare il turismo a Pineto.